Ciao ragazzi, in questo video studiamo il moto uniformemente accelerato e vediamo in particolare formule e grafici per descrivere questo moto. Osserviamo in questa animazione un carrellino che avanza aumentando sempre più la sua velocità. Vedete che il grafico che ritroviamo associando ad ogni tempo la sua posizione è una parabola descritta dalla legge oraria S uguale spazio iniziale SI più velocità iniziale V con I per T meno T con I più un mezzo A per T meno T con I al quadrato. T con I è il tempo iniziale, A è l'accelerazione. Osserviamo che quando A è maggiore di zero la parabola è convessa. Inoltre la velocità istantanea corrisponde alla pendenza della retta tangente al grafico nell'istante che consideriamo. Studiamo ora il grafico velocità-tempo, quindi il grafico su cui andiamo a inserire sulle ascisse il tempo misurato in secondi e sulle ordinate la velocità misurata in metri al secondo. Nel caso del moto uniformemente accelerato, il grafico velocità-tempo corrisponde a una retta descritto da V uguale velocità iniziale V con I più A per T meno T con I. Osserviamo che lo spazio percorso corrisponde all'area del sottografico. Inoltre l'accelerazione A è la pendenza della retta e quindi se A è maggiore di zero la retta è crescente. Concludiamo andando a studiare il grafico accelerazione-tempo, quindi andiamo a inserire sulle ascisse il tempo misurato in secondi e sulle ordinate l'accelerazione misurata in metri al secondo. Allora in questo caso osserviamo che essendo l'accelerazione costante questo grafico corrisponde a una retta orizzontale. Visto che stiamo considerando un'accelerazione positiva il valore dell'accelerazione che vedete è chiaramente maggiore di zero. Osserviamo inoltre che l'area del sottografico corrisponde alla variazione di velocità che abbiamo fra un tempo iniziale e il tempo finale. In maniera analoga a quanto visto possiamo anche andare a studiare il caso di accelerazione negativa. Andando allora a studiare il grafico spazio-tempo ritroviamo la stessa legge oraria che corrisponde però a una parabola concava, infatti l'accelerazione a è negativa. Andando a studiare il grafico velocità-tempo ritroviamo una retta decrescente e infine nel caso del grafico accelerazione-tempo ritroviamo sempre una funzione costante con valore però a minore di zero. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia aiutato a ripassare in maniera veloce il moto uniformemente accelerato, le sue leggi e i suoi grafici. Continuate a seguire i video di questo canale, mettete il mi piace e iscrivetevi. A presto!